buongiorno mister master maestro o semplicemente o semplicemente david binge it's a january 20 2022 it's a tuesday and if you can believe it it's his birthday 76 years and i now play suoner oh i'm the ranger yeah the bowie in suonore come lei e di colpezza sabina saterla del suo compleanno il 27 novembre tratto anche compleanno di kimmy robertson io rigiro la dedica e dedico a lei pezzo in questa nuova versione cantata già l'ho caricata l'anno scorso in virtù di un tributo in tre parti che fece a lost highway e anche perché in francia usciva di questi tempi a che giorno fa strade perdute e tra l'altro sono anche 25 anni di lost highway che invito a rivedere se qualcuno volesse detto link in descrizione dei tre pezzi interpretato l'anno scorso comunque spero aver fatto il meglio spero che a lei al pubblico piacerà ha cercato di inserire un po tutta la strumentazione l'originale vediamo un po come è venuta si è anche la versione dell'anno scorso solo con una strumentazione l'ho fatta lo strumento preferito questa tastiera probabilmente che c più 80 a questa mitica yamadi gx 640 ipg ipg 625 che dire spero che a tutti piacerà il tutto è a great day everyone and again happy birthday dei mister master o maestro insomma semplicemente happy birthday o semplicemente david lince a great day fanni russi gli strassi fanni russi gli strassi ha provo puede gloria i start to believe i fai with 1 inん the men chines he sens Paul guy a planta che lì fiam biam 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 non ritardare non ritardare ai vien cruz mi so cruz mi cruz mi cruz mi perdon a 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